Un incontro tra le parti c'è stato. Il caso Rolli, che vede il gigante dell'alimentare chiedere una virata contrattuale ai suoi 800 lavoratori, aveva indignato e preoccupato dipendenti e sindacati. In sostanza, la manovra proposta dalla società puntava a trasformare i contratti in essere, di cui 200 lavoratori a tempo indeterminato e i restanti 600 a titolo stagionale, a passare al cosiddetto contratto agricolo. I vantaggi sono presto detti. Per la società un risparmio dell'ordine del 40% su due fronti. Se da un lato i lavoratori si vedevano ridurre lo stipendio dagli attuali 1.500 euro lordi a ben 1.048, sempre lordi, dall'altro la società avrebbe risparmiato anche sulla previdenza sociale del 30-40%. Un doppio risparmio per la società, una doppia perdita per i lavoratori. Da qui l'incontro che si è svolto mercoledì scorso. Le parti si incontrano, arriva l'ok sulle proposte presentate dai sindacati e prossimo incontro fissato per il 9 luglio. Poi qualcosa è andato storto e oggi scioperano. Il piano non partiva dal 1 luglio e in più le assunzioni che venivano fatti ai lavoratori stagionali venivano fatti con la vecchia normativa, con il vecchio discorso che l'hanno fatto sempre in precedenza. Invece tornando qui abbiamo detto sì al 99% però dobbiamo parlare con la proprietà. Stasera fate venire la RSU alle 7 e gli diamo una risposta. Alle 7 la RSU torna in azienda e era stata stravolta, non era più quello che era stato detto. I lavoratori certamente si sono arrabbiati e dicono ma scusa questi sono inaffidabili. E praticamente c'è stata questa giornata di scioper. Il doppio risparmio della Rolli apre un capitolo che se fosse approvato potrebbe rischiare di spargersi a macchia d'olio causando non poche problematiche anche a tutti gli altri stabilimenti, soprattutto quelli di portata inferiore, i più piccoli. Per un gigante come Rolli abbassare i costi del 40% porterebbe come immediata conseguenza un abbassamento dei prezzi al pubblico notevole e questo causerebbe un effetto domino su tutte quelle aziende che ad oggi pagano salari integri così come la previdenza sociale. Che così non potendo reggere la competizione sarebbero costretti a chiudere i battenti. Senza pensare poi al messaggio che premierebbe coloro che riducono i salari e metterebbe in ginocchio quelle aziende che ancora rispettano i diritti dei propri operai. Attenzione, qui stiamo aprendo una partita che forse è più grossa di noi e invitiamo i politici nazionali, regionali e locali a prendere atto di quello che sta succedendo. Perché ho l'impressione o abbiamo noi l'impressione della CIS che non è stata capita la portata di questa avvertenza.